Partiamo però, come dicevamo, dalla Campania. Buongiorno Federico. Come sta vivendo, diciamo, la regione questo passaggio? Perché più o meno in 72 ore la Campania diventa da gialla a rossa. Sì, esatto. La domenica è zona rossa, la Campania. Diciamo, una decisione per quanto riguarda la popolazione abbastanza presa bene, attesa. Naturalmente ci sono le battaglie, diciamo, politiche. Il governatore non l'ha presa piuttosto bene. Però io voglio anche raccontarvi del fatto che i dati continuano a salire. Non dobbiamo nasconderli. Sono 3.700 gli ultimi casi positivi. È vero che ci sono tanti asintomatici, ma è vero anche che le strutture vengono prese, sono sotto pressione. Siamo ritornati a Torre del Greco all'ospedale Maresca, da cui avevamo parlato giovedì scorso. Era in sofferenza, proprio perché non aveva ancora aperto. Era stata rimandata l'inaugurazione di un ospedale del San Giovanni Bosco, un altro ospedale della zona. Finalmente sabato pomeriggio aperto, quindi si aggiungono nuovi 40 posti letto. Questa è una buona notizia, insomma, apriamo la giornata così. E poi c'è la questione delle scuole. Esatto, di questo ti volevo chiedere. Perché insomma, durante la fase gialla, diciamo, non si andava a scuola, corregimi se sbaglio. Adesso invece le scuole, diciamo, la didattica continua ad essere praticata. Sì, infatti, diciamo, questa decisione in controtendenza, mentre era ancora zona gialla, la campagna aveva deciso per le problematiche dei trasporti, di come correva il virus, aveva deciso di chiudere ogni scuola di ogni ordine e grado. Adesso invece, con coraggio, ha deciso di riaprire, quantomeno, le scuole dell'infanzia e la prima elementare. Questo comporta uno sforzo gigantesco, potete immaginare, per fare test antigenici agli alunni, ai docenti, al personale della scuola. E questo sforzo incredibile è sulle spalle dei pediatri. Ho qui con me Antonio Davino, che è vicepresidente della Federazione dei Pediatri. Come vi state organizzando? Quanti siete? E come lavorerete in questa settimana? Buongiorno, innanzitutto, buongiorno a tutti. Noi qui nell'Asda Napoli 3 Sud siamo 151 pediatri di famiglia. E siamo stati allertati, proprio ieri, in occasione della pubblicazione dell'ordinanza del governatore, per dare il nostro contributo. Noi non ci siamo tirati indietro. Oggi già avremo un incontro con la direzione strategica, proprio per organizzare in tempi rapidissimi quello che... Quanti siete i pediatri? Noi siamo 151. Quanti ragazzi dovrete scrinare? Considerato che, almeno inizialmente, andremo a scrinare tutti i bambini delle prime classi della scuola elementare, stiamo parlando di migliaia di bambini. E quindi, insomma, Federico, un lavoro importante... Ecco, quindi una settimana intensa. Una settimana intensa. Un lavoro importante su cui naturalmente torneremo ad aggiornarci. Grazie, grazie Federico e grazie al tuo ospite. Grazie. Grazie, grazie a voi. E allora buongiorno, buongiorno al professor Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe, che è collegato con noi via web. Buongiorno, professore. Buongiorno, Marco. Ci aiuti lei a capire, a muoverci un po' in mezzo a questi numeri, per capire come stanno andando le cose. Perché? Perché l'indice R-T sta calando, e questa è sicuramente una notizia positiva. Però la percentuale di positivi dopo il tampone è salita al 17,4%. Quindi una doccia calda e una doccia fredda. Lei come interpreta questi numeri? Ma guardi, come abbiamo ribadito anche nelle nostre due audizioni parlamentari alla Camera e al Senato, l'indice R-T è un indice che in questo momento è poco affidabile per il monitoraggio dell'epidemia. Perché per varie regioni, innanzitutto perché viene stimato solo sui casi sintomatici, quindi soggetti che hanno i sintomi, che numericamente sono circa un terzo del totale. E proprio per questo si basa su quella che è una informazione molto precisa, che è la data inizio sintomi, che molte regioni purtroppo non comunicano nel 100% dei casi. Quindi paradossalmente se le regioni comunicano in maniera meno accurata, l'indice R-T scende in maniera artificiosa. Tra l'altro l'indice R-T viene sempre comunicato con una forchetta, quindi con un intervallo di dati, per intenderci un po' come gli ex poll quando ci sono le elezioni. Allora se è vero che il dato puntuale questa settimana è sceso, cioè il dato medio che è 1,45, che è sceso praticamente da 1,72 a 1,43, la forchetta in realtà si è ampliata. E questo ampliamento della forchetta dell'indice R-T significa che le regioni verosimilmente stanno comunicando i dati in maniera accurata. Mi permetta di fare un esempio molto concreto. Se da domani mattina una regione decidesse di non fare più tamponi o di non comunicare più il numero della data inizio sintomi, l'R-T scenderebbe praticamente quasi a zero. Mi scusi, professore, per capirci, insomma, noi da due giorni stiamo dicendo la curva si sta appiattendo, c'è un rallentamento, quindi lei non crede a questo rallentamento? Mi faccia capire. Allora, quello che noi stiamo osservando dal punto di vista pratico non è un appiattimento della curva, è una riduzione della velocità di incremento. Mi spiego meglio. Da circa a fine ottobre, primi di novembre, di fatto si è ridotta la velocità con cui sale la curva. Il 30 ottobre saliva del 5% rispetto al giorno precedente, cioè significa che il primo novembre abbiamo avuto il 5% di casi in più rispetto al giorno prima, il 14 novembre rispetto al giorno prima era del 3,4%. Questa minore velocità potrebbe essere dovuta sia all'effetto delle misure introdotte, verosimilmente, ma anche a quello che è l'incremento praticamente della capacità di saturazione dei tamponi, perché il rapporto tra casi diagnosticati e tamponi effettuati rimane costanto, addirittura sale un po'. E questo ovviamente causa una riduzione dell'incremento percentuale dei casi. Ci vorranno ancora 7-10 giorni per capire esattamente cosa sta succedendo. Quindi, per concludere per il momento, dobbiamo aspettare almeno una settimana, 10 giorni, per vedere un po' di più l'effetto delle restrizioni, professore. Assolutamente, ma aggiungo solo una cosa, il dato più robusto è quello del ricovero e delle terapie intensive. I dati, diciamo, sui casi sono influenzati sempre dai tamponi. Va bene. Tanto, professore, lei rimane con noi, quindi continueremo a parlarne. Grazie.